Il dialogo interiore che conduciamo quotidianamente è la chiave per attrarre ciò che desideriamo nella nostra vita, secondo alcuni insegnamenti di Louise Hay. Ecco sette strategie essenziali per rinnovare il tuo dialogo interno e aprire le porte a nuove possibilità. Riconoscere le affermazioni negative è fondamentale per migliorare il dialogo interiore, identificare i pensieri e le parole che alimentano la negatività permette di prendere coscienza dei propri schemi mentali e di iniziare un processo di trasformazione verso una visione più positiva. Sostituire i pensieri negativi con affermazioni positive può trasformare il dialogo interiore. Utilizzare frasi come «Io sono degno» aiuta a rinforzare la propria autostima e a creare una mentalità orientata al successo e al benessere. Visualizzare i propri obiettivi è un potente strumento per coinvolgere l'anima nel processo creativo. Immaginare vividamente ciò che si desidera permette di focalizzare l'energia e le risorse verso il raggiungimento dei propri desideri e ambizioni. Praticare la gratitudine quotidiana eleva il dialogo interiore verso l'abbondanza. Esprimere gratitudine per ciò che si ha aiuta a mantenere una prospettiva positiva e a attrarre ulteriori benedizioni e opportunità nella propria vita. La meditazione è un mezzo efficace per connettersi con il proprio Sé superiore. Calmare la mente attraverso la meditazione permette di ascoltare la saggezza del subconscio, favorendo una maggiore consapevolezza e una guida interiore più chiara. Scrivere il nuovo dialogo interiore rappresenta un passo cruciale per il cambiamento. Mettere nero su bianco le affermazioni positive aiuta a renderle tangibili e concrete, facilitando la loro interiorizzazione e rafforzando la connessione con il proprio subconscio. Ripetere le affermazioni ogni giorno è fondamentale per consolidare i nuovi schemi di pensiero. Questa pratica costante permette di sostituire gradualmente le vecchie credenze limitanti, favorendo un dialogo interiore più positivo e costruttivo. Prendersi cura del proprio corpo influisce direttamente sulla salute mentale. Un corpo sano supporta una mente lucida e serena, facilitando il mantenimento di un dialogo interiore positivo e armonioso. L'equilibrio fisico e mentale è essenziale per il benessere complessivo. Circondarsi di energia positiva è vitale per nutrire il proprio spirito. Frequentare persone ed ambienti che elevano lo stato d'animo aiuta a mantenere alta la motivazione e a sostenere un dialogo interiore focalizzato sulla crescita e sull'ottimismo. Abbracciare il perdono libera l'anima da vecchi rancori, creando spazio per nuove energie positive. Lasciare andare i sentimenti negativi permette di aprirsi a nuove possibilità e di rafforzare il dialogo interiore, orientandolo verso la pace e la serenità. Trattarsi con amore e rispetto è fondamentale per migliorare il dialogo interiore. Ogni giorno dedica un momento a riconoscere i tuoi sforzi e progressi. Definire chiaramente ciò che si desidera è il primo passo verso la manifestazione dei propri sogni. Comunica con precisione i tuoi obiettivi al subconscio, creando una visione dettagliata che possa guidarti nel percorso verso il successo. Agire, come se avessi già ottenuto ciò che desideri, aiuta a mantenere una mentalità positiva e propositiva. Adottare comportamenti e pensieri di una persona che ha già raggiunto i propri obiettivi attira energie simili nella tua vita. Riconoscere il proprio valore intrinseco è essenziale per rafforzare il dialogo interiore. Ogni persona ha un valore unico e inestimabile. Ricorda a te stesso le tue qualità e capacità, rafforzando la fiducia nella tua abilità di raggiungere i tuoi sogni. Dedicare del tempo al silenzio interiore permette di connettersi con la propria anima. In un mondo frenetico, trovare momenti di quiete aiuta a calmare la mente e a sentire la propria verità interiore, senza distrazioni esterne. Affrontare le proprie paure è fondamentale per liberare il subconscio. Individua ciò che ti blocca e affrontalo con coraggio. Superare le paure permette di sbloccare nuove energie e potenzialità, migliorando il dialogo interiore e la crescita personale. Usare il linguaggio del cuore significa parlarsi con amore e compassione. Trattati come tratteresti una persona cara, con gentilezza e comprensione. Questo atteggiamento positivo rinforza l'autostima e crea un ambiente mentale favorevole al cambiamento. Affidarsi alla saggezza interiore è fondamentale per una vita equilibrata. Fidati del tuo intuito e ascolta i segnali del tuo subconscio. Questa connessione profonda ti guiderà nelle scelte importanti, migliorando la qualità delle tue decisioni quotidiane. Sviluppare una routine di autocura è un atto d'amore verso se stessi. Dedica ogni giorno del tempo al benessere fisico e mentale attraverso attività che nutrono l'anima. Questo rafforza il tuo equilibrio interiore e favorisce la serenità. Accettare il cambiamento come opportunità è essenziale per la crescita personale. Ogni trasformazione, anche se inizialmente difficile, porta con sé nuove possibilità. Abbracciando il cambiamento, crei spazio per nuove esperienze e miglioramenti nel dialogo con te stesso. Coltivare la pazienza è essenziale per permettere al subconscio di adattarsi ai nuovi pensieri positivi. Non aspettarti cambiamenti immediati. Ogni passo avanti, per quanto piccolo, contribuisce a creare una base solida per un dialogo interiore più sano. Celebra i tuoi successi, riconoscendo e festeggiando ogni progresso. Questa pratica rafforza la tua autostima e motiva il subconscio a continuare il percorso di crescita. Ogni vittoria, anche la più piccola, è un segnale di trasformazione positiva. Siamo giunti alla fine del nostro viaggio e vi ringraziamo per averci accompagnato. Metti un like e commenta qui sotto se il video ti è piaciuto. Alla prossima!